Sentiamo sempre parlare di grassi saturi, di cibi che hanno un alto contenuto di questa componente lipidica, come ad esempio i formaggi e dell'impatto che questi hanno sulla nostra salute. Insomma, i grassi saturi sono spesso oggetto di dibattito, quindi cerchiamo di capirci qualcosa. Cos'è un grasso saturo? I grassi saturi sono un tipo di acidi grassi presenti negli alimenti. Si trovano principalmente in fonti animali come carne, latticini, burro, uova, ma sono presenti anche in alcuni oli vegetali, come l'olio di cocco e il famigeratissimo olio di palma. Si distinguono in natura perché sono solidi a temperatura ambiente, il burro è solido a temperatura ambiente e vengono chiamati volgarmente grassi, mentre i grassi insaturi sono liquidi, guardate l'olio, a temperatura ambiente e vengono appunto chiamati volgarmente oli. Ma qual è il ruolo dei grassi saturi nella dieta? I grassi saturi sono una fonte concentrata di energia e svolgono diversi ruoli nel nostro corpo che magari con un altro video andremo a scoprire ed approfondire. Tuttavia un consumo eccessivo di grassi saturi può avere effetti negativi sulla nostra salute. E quali sono questi effetti negativi? Cerchiamo di capirci. I grassi saturi possono aumentare i livelli di colesterolo LDL nel sangue, spesso chiamato colesterolo cattivo. Ed è il colesterolo che va dal fegato ai tessuti, però non è proprio cattivo come si dice perché una certa quantità di colesterolo il nostro corpo la richiede. Le nostre cellule richiedono il colesterolo perché il nostro corpo riesce dal colesterolo a produrre gli ormoni steroidei e le cellule utilizzano il colesterolo per la formazione, ovvero il colesterolo partecipa alla formazione delle membrane cellulari. Ma è un alto livello di colesterolo LDL ad essere cattivo. Questo perché è associato ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Quali sono queste malattie cardiovascolari? Possono interessare il cuore come l'infarto o il cervello come l'ictus. Quindi un alto livello di colesterolo LDL può provocare processi aterosclerotici. Quindi bisogna tenere sotto controllo l'assunzione di grassi saturi. Nonostante i potenziali effetti negativi non è necessario eliminare completamente i grassi saturi dalla nostra dieta. La chiave dove sta? Sta nel moderare l'assunzione, cercare di fare delle scelte alimentari equilibrate. Alla fine, gira che ti rigira, non dobbiamo evitare nessun cibo. È sempre la quantità a vincere. Quindi non demonizzate né i formaggi, né i salumi, né nessun altro cibo. Nessun cibo, nelle giuste quantità, fa ingrassare o fa male. Ok, adesso cerchiamo di capire come limitare con l'alimentazione questi grassi saturi. Ok, una parte positiva perché è utile al corpo, però è sempre meglio abbassare i rischi cardiovascolari, quindi limitare l'assunzione di tali cibi. Per ridurre l'assunzione di grassi saturi è possibile optare per alternative più salutari. Ad esempio, si può preferire il consumo di carni magre come il pollo, anche il pollo arrosto senza pelle. Io personalmente la pelle la mangio, però mangio il pollo arrosto una tantum, non tutti i giorni. E utilizzare anche la carne di tacchino. Oppure scegliere dei latticini a basso contenuto di grassi, come lo yogurt greco o il latte scremato. Ora, se lo yogurt greco vi fa cagare perché è acido ognolo, potete insaporirlo. O lo lasciate un po' fuori dal frigo, oppure lo insaporite con degli insaporitori, oppure con della frutta. Lasciando della frutta, dei pezzi di frutta all'interno dello yogurt, ma non solo lo yogurt greco, anche lo yogurt magro che fa ancora più schifo di solito, prende il sapore della frutta. Poi, ricordate che al gusto ci si abitua. Inoltre, poi, tornando ai sostituti degli alimenti con minor contenuto di grassi saturi, è possibile sostituire gli oli ricchi di grassi saturi con oli più sani, come l'olio d'oliva oppure l'olio di semi di lino. In conclusione, possiamo dire che i grassi saturi devono essere consumati con moderazione. E' importante mantenere un equilibrio nella dieta, che è fondamentale, presupposto fondamentale, per mantenere una buona salute. Inoltre, non dobbiamo aver paura di nessun cibo, neanche quello calorico, che ha un'alta concentrazione di grassi saturi, perché è sempre la varietà, è sempre la moderazione a vincere. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Ho voluto farlo più corto, perché così è vero che si dicono meno dettagli, però risulta più fruibile. Poi, tra l'altro, commentate che, in base ai commenti, in base alle vostre richieste, costruiremo altri video, costruirò altri video, approfondirò alcuni aspetti. Comunque, noi ci vediamo, come sempre, ogni venerdì. Ricordatevi, il martedì e il giovedì ci sono delle live su Twitch. Il martedì è tecnica, quindi approfittate, venite lì, fate domande che vi aiuto, vi rispondo, vi aiuto anche nelle vostre problematiche nei confronti del percorso che state facendo. E, che dire, mi raccomando, sempre il like, che non vi costa niente, ma per me è importante per capire il lavoro che sto svolgendo. Il commento, come detto, mi aiuta a capire in che direzione andare, magari se approfondire alcuni aspetti. Ci vediamo nel prossimo video, ok? Ciao!